salve a tutti amici e amiche allora la notizione di queste ore se non l'avete sentita è la possibile fornitura di miraggio 2000 da parte della francia all'ucraina quindi vediamo di analizzare il miraggio 2000 e di capirci qualcosa come sempre amici se volete sostenermi potete farlo iscrivendovi al canale qui in basso ci sono i pulsantini per farlo e volendo potete anche abbonarvi al costo di un caffè al mese oppure facendo una donazione fate voi qualsiasi cosa decidiate di fare è di grandissimo aiuto per me e per continuare a fare questi contenuti e non dimenticate di mettere il mi piace veniamo a noi in occasione delle celebrazioni del d-day il presidente francese macron ha parlato della fornitura dei miraggio e ha detto che l'addestramento dei piloti richiederà circa cinque mesi e che la consegna degli aerei stessi è prevista entro la fine dell'anno ha accennato al fatto che i piloti ucraini si addestreranno in francia e non solo specialisti soldati ed ufficiali riceveranno addestramenti in francia anche se ormai tutti sanno che personale francese è già presente da tempo sul territorio ucraino per l'affiancamento e la formazione all'uso dei sistemi d'arma occidentali queste notizie sono coerenti con l'atteggiamento francese fino ad oggi e che da un certo punto di vista sollevano sempre il dibattito politico europeo ma in realtà la francia è una nazione che non manca mai di sottolineare la propria autonomia e il sostegno all'ucraina è in accordo con l'european air group quindi con l'inghilterra e in ambito nato con le forniture da parte degli stati uniti in sostanza la francia si allinea alle azioni di inghilterra e stati uniti in questo momento per dirle in modo semplice non vuole essere da meno quindi l'addestramento dei piloti ucraini sul mirage inizierà nelle prossime ore con una prima fase di volo basico su aerei aelica ha detto così per poi passare direttamente all'utilizzo dei mirage non si sa per adesso quanti aerei verranno consegnati né quale versione del mirage è certo che da una parte avere sia f16 che mirage e chissà magari in futuro anche i griffen svedesi rappresenta un grosso problema per la logistica i pezzi di ricambio e la formazione del personale lo stesso possiamo dire dei piloti che non possono cambiare macchina facilmente f16 e mirage sono due aerei molto diversi almeno come avionica quindi avere aerei diversi rappresenta degli svantaggi pratici ma come si dice meglio averli che non averli da parte americana con un joe biden in cerca di una sedia disperatamente durante le celebrazioni del d-day comunque poi ha rilasciato delle interviste piuttosto energiche dove conferma che da parte americana non ci sono problemi per l'utilizzo delle armi oltre la linea di confine russa ha parlato di 200 miglia che sono più o meno 320 chilometri e come dire è un discorso che va visto in chiave politica perché sostanzialmente quelle 200 miglia sono il range effettivo delle armi prestate in ucraina non è che possono andare molto più in là ma biden sostanzialmente ha detto ok potete usarle come vi pare basta che non colpite mosca che è giusto a 500 chilometri più in là il che mi sembra sensato per evitare tenetevi forte sto per usare un termine dei giornalisti televisivi un escalation militare diciamo all'atto pratico le cose più importanti da dire di questi giorni sono che gli ucraini possono usare le armi americane per difendersi dagli attacchi aerei e missilistici con molta più efficienza rispetto a prima mentre continueranno ad usare gli storm shadow inglesi come hanno fatto fino ad oggi senza problemi e stanno aspettando anche i missili taurus tedeschi per questo ora giusto l'altro ieri putin in una conferenza stampa ha fatto delle dichiarazioni tipiche del suo stile che poi sono state ritrasmesse e amplificate da tutti gli organi di stampa russi e qualche copia in colla è arrivato anche da noi le cose più importanti del suo discorso sono essenzialmente due la prima è che non ci sono intenzioni di negoziazione di pace da parte di mosca e questo è stato purtroppo anche confermato dal segretario della presidenza dimitri pescov e che la guerra finirebbe in due mesi se la nato smettesse di fornire aiuti in ucraina ok non so voi ma a me sentire questa frase è venuto in mente tipo un bullo che picchia uno studente a scuola e nel frattempo dice agli altri intorno non badate a me se non vi intromettete finisco fresco presto ora vi ringrazio dei commenti di questi giorni in cui mi avete detto che sono imparziale che faccio la mia analisi con obiettività queste parole sono molto gentili e vi ringrazio di cuore sottolineo che da storico e appassionato della materia militare non faccio il tifo per nessuno sia chiaro cioè non è che voglio vedere la russia perdere questa guerra o vincerla però però sarebbe bello vederne una fine e quello che sto per dire è solo una mia opinione ma credo che lo stesso putin non sia altro che un burattino nelle mani di potenti organizzazioni in russia che in questi due anni si stanno arricchendo nella produzione di armi nella vendita di materie prime in europa e non vedono l'ora di mettere le mani sul territorio occupato se e quando si raggiungerà una specie di stabilità nell'area occupata la stessa cosa vale per l'europa e l'america che con le forniture e in una economia di guerra ci marciano non poco del resto la storia insegna che la guerra si fa perché conviene altrimenti non si farebbe giusto tutto questo sempre a discapito dei civili nelle città martoriate dai bombardamenti e della vita di migliaia di soldati inviati al fronte detto questo torniamo al topic di questo video il miraggio 2000 è un aereo che può fare la sua parte in un conflitto come questo allora partiamo dal principio la genesi di questo aeroplano è strettamente legata al fondatore dell'azienda marcel bloc che fondò la sua società per costruzione di aeroplani nel 1917 la cui storia magari tratterò in un video dedicato dopo la seconda guerra mondiale l'industria francese era così mal ridotta e nel 1945 bloc sopravvissuto alla deportazione in germania ricostruì l'azienda facendo convergere anche altre officine e allargando agli azionisti francesi in una società a responsabilità limitata successivamente con il suo cambio di nome in d'assolt diventerà società des avions marcel d'assolt sarebbe più o meno società per l'aviazione di marcel d'assolt a partire dal 1947 con l'arrivo di alcuni ingegneri tedeschi che avevano lavorato all'enche il 162 inizieranno i lavori per un caccia a reazione intercettore francese nel frattempo la guerra di corea a partire dal 1950 con gli scontri fra f86 e mig 15 aveva definitivamente cambiato il corso della storia parlando almeno di combattimento aereo di conseguenza la ricerca della leggerezza e di velocità supersoniche per questi caccia leggeri divenne una prerogativa però spesso doveva fare i conti con propulsori non troppo potenti all'epoca e così si adottavano soluzioni miste tipo un motore a razzo più due motori a jet qualcosa del genere con una certa asmania di attuare soluzioni aerodinamiche non ancora sperimentate in quegli anni comunque vedevano alla luce i grandi bombardieri con capacità nucleari e di conseguenza la ricerca della velocità e di aerei intercettori diventò una prerogativa così il governo francese emetteva un bando di gara per un caccia intercettore capace di salire a 18 mila metri eventualmente con una soluzione di motore misto nella categoria dei mac 2 vedevano la luce così aerei belli come il 6 e 2 1 2 durandal il meno bel bello snc aso trident che avrebbe poi ucciso il suo pilota collaudatore vi mostro giusto delle immagini di questi modelli e terzo nel bando di gara il da sold md 5 5 0 mirage l'unico a non avere il motore a razzo o almeno era un motore aggiuntivo ma due motori a reazione viper e l'inconfondibile ala a delta questo aereo era molto bello ma non esente da difetti i due motori infatti nonostante diverse modifiche non gli permettevano di superare mac 1,6 da sold nel frattempo si rese conto che il caccia leggero era senza futuro quindi decise di rivedere completamente il progetto aumentando leggermente le dimensioni e portandolo così a un caccia medio di modo che potesse ospitare più carburante per fare missioni più lunghe viaggiare al doppio della velocità del suono così veloce che i nemici lo avrebbero visto ma non sarebbero mai stati in grado di raggiungerlo da questa frase appunto si capisce il significato del nome mirage irraggiungibile miraggio appunto il mirage il mirage 3 così passava ad un peso di 5340 chili a vuoto contro i 3330 dell md 550 oggi diremmo che comunque il mirage 3 era un caccia leggero e un md 550 tipo un ultra leggero ma tant'è la storia della sua motorizzazione è molto interessante perché come ho già trattato nel video dei prototipi segreti degli aerei tedeschi il mirage 3 è legato proprio all'enkel 162 tedesco aereo che insieme al mei 262 fu l'unico aereo a reazione prodotto in serie a volare nella seconda guerra mondiale le origini del motore snekma atar e con queste due parole in realtà si intendono più generazioni di motori sviluppati in oltre 40 anni di studi dai primi turbo oggetti a scuola singola ai moderni turbo fan a doppio flusso ad altissimo rendimento le origini di questo propulsore risalgono agli studi condotti dall'ingegner hermann hoestrich direttore tecnico delle officine tedesche bmw di berlino spandau durante il conflitto aveva messo a punto con il suo staff il motore bmw 109003 sturm che significa tempesta motore da 800 kg di spinta che veniva montato sugli enkel 162 nel 1945 hoestrich si era rifugiato con i suoi collaboratori in una ex miniera di sale a stoccarda lì fu catturato dagli americani nel maggio del 45 e qualche tempo dopo fu trasferito di nascosto in francia dove gli fu offerto un regolare contratto per lavorare allo sviluppo del motore a reazione per conto del governo francese accettò insieme agli altri 150 ingegneri tedeschi ed andò a costituire un gruppo di ricerca all'inda rickenback presso l'ex fabbrica tornier sul lago di costanza denominato appunto atelier technique aerotec qui non so dirlo francese insomma atelier per l'aeronautica tecnica di rickenback che spiega appunto la sigla atar che diventerà poi una specie di marchio di fabbrica per tutti i reattori che usciranno da questi studi il primo atar figlio diretto dello sturm tedesco nel 1948 radduppiava la sua potenza nominale sul banco di prova spingendosi a 1600 kg di spinta che divennero poi presto 2600 kg successivamente il gruppo atar si trasferì nei pressi di parigi sotto il controllo della snekma le aziende riunite per l'aviazione francese ma ostrich ex scienziato tedesco del terzo reich continua ad essere il responsabile tecnico e a godere insieme ai suoi tecnici di grande autonomia uno di essi lothar mans diventerà ingegnere capo della divisione motori militari snekma e responsabile dei super atar quindi quando si dice che senza von brown gli americani non sarebbero mai andati sulla luna i francesi non sarebbero mai riusciti a costruire l'aereo più bello del mondo senza herman ostrich la cosa più divertente di questa vicenda però è proprio nel fatto che il fondatore di tutto fu marcel d'assol ingegnere imprenditore politico editore e produttore cinematografico ebreo quindi diciamo che se hitler avesse saputo che i suoi migliori ingegneri per i motori aeronautici sarebbero poi finiti alle dipendenze di marcel d'assol come si dice no il karma ma la cosa più divertente è che lo stesso marcel d'assol fu deportato in un campo di concentramento perché è considerato pericoloso per la difesa nazionale e la pubblica sicurezza durante la prigionia in un campo di concentramento i tedeschi cercarono in tutti i modi di forzarlo a collaborare ma lui si rifiuterà sempre dicendo di non essere in buona salute trasferito nel campo di concentramento di buchenwald ad agosto del 1944 i tedeschi gli daranno l'ultima chance la scelta fra il collaborare o una corda al collo e solo grazie all'intervento di alcuni compagni di campo e uno scambio di identità con un uomo deceduto riuscirà a salvarsi la vita quindi lo sviluppo del mirage 3 non sarebbe mai avvenuto senza questi 150 scienziati tedeschi elenche 162 ma come dire poi la storia andò avanti il mirage 3c si presentava già con tutte le caratteristiche delle versioni future l'ala a delta la fusoliera a chiudersi a vite di vespa le due prese d'aria con i coni per la variazione del flusso e un motore da 6.000 kg di spinta raggiungeva 2,15 volte la velocità del suono con una tangenza pratica di 17.000 metri e una salita a 18.000 metri in 6 minuti e 10 secondi fu ovvio che sarebbe stato un caccia di enorme successo entrato in servizio nel 1961 in francia fu prodotto per un totale di 407 esemplari poi verrà venduto anche a paesi come argentina australia brasile libano pakistan sud africa spagna venezuela e la svizzera fra l'altro ho conosciuto un pilota di mirage 3 svizzero in pensione un paio d'anni fa e poi israele nel 1967 il mirage 3 israeliano ebbe un ruolo decisivo nella guerra dei sei giorni nelle missioni di attacco al suolo e nell'interdizione questo impiego operativo fu il miglior biglietto da visita per questo aereo la storia del mirage 3 e delle sue versioni e varianti è veramente lunga e non posso dedicarci l'intero video ma prometto che ci tornerò in futuro soprattutto per quanto riguarda proprio il loro utilizzo in israele ma non solo altre versioni diverse del mirage durante la guerra fredda come il mirage 4 che era un bombardiere nucleare o per esempio il mirage f1 o il mirage g8 con ala a geometria variabile fino addirittura a modelli sperimentali a decollo verticale dal 1961 al 1994 questo caccia multiruolo ha avuto il suo impatto nella storia contemporanea operando nei conflitti e nel ruolo continuo di controllo dello spazio aereo un ruolo così significativo da meritare un posto nella top 10 fra gli aerei da combattimento ma oggi ci dedicheremo soprattutto a la sua versione più giovane il mirage 2000 che è tutta un'altra storia le origini del mirage 2000 risalgono al 1974 inizialmente indicato come delta 2000 si trattava di una rielaborazione del mirage 3 adottando un nuovo motore e nuovi accorgimenti aerodinamici nuovi materiali più moderni e soprattutto le nuove tecnologie in ambito elettronico questo nuovo progetto così avrebbe potuto rispondere alle nuove specifiche richieste dal governo di un caccia monomotore dedicato alla superiorità aerea con capacità di attacco al suolo interdizione e ricognizione tattica un multiruolo con una aerodinamica avanzata e un motore a doppio flusso snakma m53 super atar la cui spinta stimata doveva essere di oltre 9 tonnellate un radar doppler thompson csf è una velocità di punta di mach 2,35 è predisposto all'utilizzo dei missili più moderni super 530 ma perché l'ala delta negli anni precedenti il mirage 3 con la sua ala delta aveva presentato problemi e inconvenienti il primo fra tutti era la necessità di lunghi spazi di decollo una instabilità in atterraggio difficilmente controllabile a bassa velocità soprattutto perché aveva sistemi di controllo idraulici analogici e questi inconvenienti avevano infatti portato poi negli anni allo sviluppo del mirage con ala a freccia tradizionale il mirage f1 che aveva poi dimostrato il suo impiego operativo e buone dati doti di versatilità e manovrabilità ma quindi perché si è voluto tornare all'ala a delta la risposta è abbastanza semplice l'ala a delta è più semplice da costruire a maggiore capacità di carburante interno la possibilità di adottare tecniche costruttive non troppo sofisticate e quindi meno costose e ottime prestazioni alle alte velocità quindi bastava eliminare gli inconvenienti presenti sul mirage 3 che all'epoca non era possibile ma negli anni 70 con l'avvento dell'elettronica si presentava l'occasione per farlo l'introduzione del fly by wire che significava letteralmente volo attraverso i fili elettronici connesso ad un sistema automatico computerizzato del controllo dell'assetto detto afcs automatic flight control system permetteva adesso un controllo dell'aereo senza connessioni meccaniche fra il pilota e le superfici di controllo ma tutto intermediato da un computer così il movimento della cloche si trasformava tramite potenziometri in impulsi elettrici mediati dal computer di bordo che valutava la richiesta da parte del pilota in funzione della velocità dei g dell'angolo d'attacco e dell'assetto in generale per ottenere sempre la migliore risposta possibile l'adozione dei comandi fly by wire e della fcs aveva poi un duplice scopo da una parte eliminava molte connessioni meccaniche riducendo il peso dell'aeroplano sostituendole ad un circolo circuito quadruplicato più uno di emergenza quindi più sistemi ridondanti e riducendo così la vulnerabilità del velivolo altra cosa non meno importante questa mediazione elettronica permetteva di far volare un aereo che era sostanzialmente instabile con un baricentro più indietro rispetto al punto di pressione questa capacità di un computer di intervenire in tempo reale sulla stabilità dell'aeroplano permetteva così prestazioni eclatanti eliminando allo stesso tempo i problemi dell'ala delta in questo modo il mirage 2000 poteva volare a bassa velocità normalmente come tutti gli aeroplani e mantenere un alto grado di manovrabilità mentre per esempio il vecchio mirage 3 aveva grandi problemi in atterraggio e per atterrare i piloti dovevano spingere la cloche in avanti anziché cabrare così il prototipo del mirage 2000 nel 1978 effettuava il primo volo nella base di stress ed entrava in servizio l'anno successivo per certi versi e soluzioni mirage 2000 e f16 non solo sono contemporanei ma sono anche simili nelle prestazioni con una velocità di mach 2,2 e una tangenza di oltre 18 mila metri disponeva anche di un'ottima accelerazione e manovrabilità il mirage si collocava così fra i migliori intercettori disponibili leggermente meno versabile versatile in termini di multiruolo di un f16 o un f18 è meno potente di un f15 però avendo un'avionica sofisticata e le prestazioni il suo ruolo è stato ed è ancora perfettamente adatto per il ruolo primario di difesa dello spazio aereo le piccole dimensioni e superfici gli davano una naturale riduzione della rcs stiamo parlando di invisibilità rendendolo difficile da individuare da un punto di vista radar e nel volo a bassa quota era impareggiabile capace di decollare in cinque minuti ed equipaggiato con due missili matra 530d che erano missili semiattivi dalle ottime prestazioni per gli anni 90 a medio raggio e più due magic a guida infrarossa per il corto raggio la prima versione del mirage 2000 aveva tutte le carte in regola per un ottimo ruolo da intercettore per l'attacco al suolo comunque poteva trasportare bombe non guidate o a guida laser snecai per la distruzione di piste obiettivi strategici e bombe a fermentazione o razzi non guidati l'ultima versione per la francia la 2005 f ha ricevuto ulteriori aggiornamenti portando a sei i piloni per il carico di missili aria aria e l'integrazione con il sistema datalink 16 per in ordine nato queste ultime versioni del mirage oggi vengono lentamente sostituite dal rafale quindi non è inverosimile una cessione all'ucraina specialmente nella versione 5f non è un aereo da sottovalutare anzi proprio per le sue migliori capacità aria e un radar migliorato l'integrazione con il link 16 gli permetterà di operare in sinergia con gli f16 ponendosi in una posizione in cui si possono vedere a vicenda e il mirage può entrare in azione al momento giusto nei modi giusti ora detto questo quello che sto per dire prendetelo con le pinze per quello che vale vi parlerò solo sulla base della mia esperienza in dcs cioè nel campo della simulazione militare avendo usato il mirage che fra l'altro bisogna dire che i piloti francesi reali si addestrano proprio su questo simulatore nella sua versione dedicata nel corso degli anni ho avuto modo di sperimentare sessioni in simulazione ai comandi per esempio del su 27 dell'f15 dell'f16 in coordinazione o anche contro i mirage è chiaro che è un aereo che nasce come intercettore non può fare tutto non si può pretendere che respinga ondate di aeroplani o che faccia da deterrente come nelle corde il ruolo di un f15 per esempio ha un'autonomia limitata pochi missili quindi il suo ruolo è specifico va assolutamente coordinato con una guida caccia da terra quindi dobbiamo immaginarlo come un intercettore quindi decolla su chiamata resta nascosto il più possibile quindi non accende il radar e poi si attiva proprio nel momento in cui deve colpire e questo ruolo lo sa fare molto bene chiaramente non possiamo paragonare la simulazione con la realtà digital combat simulator è un simulatore e lì ci sono piloti che lo fanno tutto il giorno chiaro sono comodi in pantofole possono spenderci tempo possono morire mille volte per raffinare le loro tattiche nelle mani di un pilota comune è un aereo efficace sicuramente ma bisogna vederlo nel contesto in un teatro in cui ci sono tanti altri aerei per la logistica che forniscono i dati di intelligence ci sono le postazioni a terra che forniscono la cosiddetta picture ci sono gli awax e soprattutto il controllo da terra che lo guida passo passo all'intercetto per renderlo il più pericoloso possibile ed è qui che mirage in area aria si esprime al meglio se riesce a restare nascosto grazie alle sue ottime doti di volo a bassissima quota può colpire silenziosamente e può essere un'ottima risorsa da integrare alle capacità già buone dell'f16 di cui per l'altro ho già affrontato in un altro video quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi le parole di macron mi hanno lasciato piuttosto sorpreso e anche un po scettico in tanti anni di simulazione facendo anche un po di scuola di volo o affiancamento non ho mai visto nessuno a imparare a volare un aereo da combattimento moderno in cinque mesi e quindi neanche il mirage e chiaramente sto parlando di persone che avevano tutto il tempo del mondo tranquilli stando seduti in poltrona davanti a un computer nella vita reale è un po diverso e magari mi sbaglio ma magari si impari a volare l'aeroplano molto rapidamente se parliamo di volare facendo cose basiche tipo decolli atterraggi navigazione ma per imparare a usare un aereo in battaglia è tutto un altro discorso serve tempo per sviluppare automatismi e memoria muscolare conoscere tutti gli aspetti procedurali un passaggio macchina si dice così non è una cosa semplice anche per chi sa il fatto suo come per esempio può essere lo so un pilota ucraino che ha esperienza sul mig 29 o il 27 cinque mesi sono un po pochino ma magari mi sbaglio ma è chiaro che un pilota che parte da zero come è stato detto con una prima fase su aerea elica e poi il mirage cinque mesi sono veramente pochini ma vedremo e questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto prometto di ritornare su questo argomento perché ho un bel dossier completo sulla storia della famiglia dei mirage quindi penso proprio di tornarci in futuro fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se avete proposte e quant'altro come sempre un abbraccio alla prossima